e ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di diario di un futuro doppiatore siamo arrivati ai 4 anni ragazzi questa serie c'è da quando ho iniziato il canale praticamente l'ho aperto e per chi non lo sapesse questa è una serie in cui io racconto il mio percorso da doppiatore da zero da quando ho proprio iniziato a leggere le prime cose ad alta voce a quando si spera farò il mio primo protagonista e adesso sono qui per parlarvi dell'ultimo anno come sta andando? bene bene dai sta cominciando a prendere piede ho cominciato a fare i miei primi brusii sono diventati sempre più frequenti e spero che diventeranno ancora più frequenti perché comunque lo dico anche facendo i brusii abbastanza frequentemente non ci sto campando e il mio prossimo obiettivo è quello riuscire a campare di doppiaggio per il resto cioè io già così sarebbe proprio wow sono qui oltretutto per parlarvi non solo per fare un aggiornamento ma per parlarvi di un'esperienza perché io parlo quasi sempre appunto dell'esperienza che mi ha colpito di più perché? perché per chi mi segue su Instagram e per chi lo sa per chi non l'avesse capito io so The Room ecco io sono andato a Milano perché sono andato a Milano questo è un ottimo inquisito perché Roma ultimamente è ultra 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 chiusa ma proprio chiusa ma chiusa cioè non fai un cazzo non ti ascoltano non hanno voglia di ascoltarti non... zero zero sono due fottuti anni che giro per studi e mi hanno ascoltato solo una volta una fottutissima volta è andata bene? sì abbastanza ho fatto qualcosina però comunque capite che non ti rode perché tu sai di poter fare qualcosa tu sai di poter essere pronto per fare qualcosina per lavorare ma loro non lo sanno ovviamente però non ti ascoltano quindi tu stai lì che ti rodi il fegato perché dici cazzo io sono qui sono pronto eccomi dai ascoltatemi e invece no col cazzo non lo fa nessuno e quindi mi sono rotto le palle perché? perché ho visto un sacco di ragazzi che vengono dal nord a Roma e che io prenderei a cazzotti perché gli dico ma dove cazzo andate che vengono soprattutto giù perché mi dicono eh no ma io su ho fatto qualche turno però non mi piace come lavorano perché non lo so su lasciano passare un po' più roba il che è vero e poi ne parlerò perché comunque ho visto come si lavora su ma ragazzi io vorrei dirvi una cosa ma che cazzo vi frega? cioè ma lavorate perlomeno lì perché dovete venire giù se poi non lavorate qui? che cazzo di senso ha? cioè per davvero voi state adesso a pensare alla qualità di quello che doppiate? cioè ok bello per carità è una bellissima storiella che mi sento raccontare da quando inizio però poi quando vedo che tutti quanti vengono chiamati a cazzo di cane e poi veramente non hanno nemmeno la voglia di ascoltare magari qualcuno che potrebbe essere talentuoso o potrebbe essere un bravissimo doppiatore insomma beh qui casca l'asino ragazzi perché il discorso della qualità si va a far fottere quindi perché dovreste fare questo discorso della qualità? comunque vado a Milano allora parliamo innanzitutto della logistica della città per girare per studi necessiti di un mezzo che sia un mezzo pubblico oppure tuo a Roma che sia un mezzo pubblico oppure tuo sei inculato lo stesso perché i mezzi pubblici non esistono e il mezzo tuo sicuramente sarà ingorgato nel traffico per di più a Roma non è che hanno preso che ne so un un quartiere e l'hanno fatto solo di studi no l'hanno presi e l'hanno tirati a manciate sopra la città in culonia tutti quanti completamente a puttane in cui praticamente tu devi prendere la macchina e magari per raggiungere il prossimo studio devi farti mezza Roma a Milano stanno tutti vicino per di più i mezzi funzionano quindi quelli che non stanno vicino ci arrivi in dieci minuti e quindi in una giornata ti potresti tranquillamente girare quasi tutti gli studi di Milano e ragazzi fidatevi che questo vale molto passiamo al prossimo argomento ho assistito è vero il lavoro su è un po' più sbrigativo cioè lasciano andare un po' più di cose che magari qui non farebbero andare via perché ho visto un sacco di gente appunto che mentre leggeva le battute le leggeva appunto il provino invece è stato carino cioè non è molto diverso dai provini che fanno a Roma però perlomeno qui sono gentili cioè lì perché sono tornato a Roma adesso vabbè a Milano sono più gentili per di più ottima cosa bellissima è il primo direttore che becco su a spiegarmi quello che doppio che bello eh qui invece ho fatto un doppiaggio su uno che non c'entrava sempre un cazzo però era un anime e a livello recitativo sono andato benissimo a livello di articolazione un po' meno perché comunque c'erano tipo dieci parole al secondo da dire per di più c'erano anche nomi giapponesi di mezzo e quindi le dieci parole al secondo le ho rette però dopo le dieci parole al secondo il nome giapponese l'ho un po' sfalculato quello si perché ragazzi beh sono umano e che dire speriamo che sia andata bene a me è sembrato soddisfatto lui comunque mi ha fatto ok dai non ha detto dai però ha detto ok e niente consiglio ragazzi se avete già iniziato a Roma su andateci ma andateci ogni tanto non non pensate di trasferirvi perché ormai se avete già qualcosa qui è qualcosa e qualcosa nel doppiaggio vuol dire una miniera d'oro perché veramente è difficilissimo trovarlo invece se non avete ancora proprio iniziato da nessuna delle due parti perché comunque se volete fare questo lavoro o Roma o Milano non esiste altro e beh vi consiglio Milano per iniziare secondo me è molto meglio molto molto meglio dopo che vi siete fatto un po' di fatti un po' di esperienza su magari se proprio vi va questa cosa del voglio fare il doppiaggio a Roma vi piace di più Roma allora ha senso venire giù io per ora continuerò ad andare su ogni tanto perché tanto già mi hanno detto che a settembre dovrei avere un altro provino quindi dai cosa che qui mi sogno e niente che dire ragazzi buona fortuna a voi buona fortuna a me ci vediamo al prossimo video di Diario di un futuro doppiatore che spero sarà di io che vi dico che ho vinto un provino beh 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 prossimo video ciao